Bella patrimoniale, pagassero qualche porta loro. Eh, patrimoniale in Italia, sono cent'anni che se ne parla nessuno c'è il coraggio di inserirla. Patrimoniale sì, patrimoniale no, ma siamo tutti d'accordo a far pagare più tasse a chi possiede di più. Chi ha più soldi è giusto che paghi. Bisogna far pagare i poveri. Perché? I ricchi portano benessere. Ah, guardi, non saprei. Abbiamo pagato le tasse di successione. Poi l'Imo. Che altro ci volete far pagare? La patrimoniale intacca poi il principio fissato dall'articolo 53 della Costituzione, ossia quello in base al quale è lo Stato. Lei è avvocato? Che? I ricchi devono pagare di più? Dai. Ma questo concetto che ricco si deve accollare, lo scarto rispetto a un'altra persona, in questo mondo non si cresce. Super ricchi, super super ricchi. Non esagererei. Non esageriamo troppo. Facciamo una cosa giusta. Super ricchi, track. Io più di preoccuparmi dei super ricchi mi preoccuperei dei medi che vadano le tasse. L'Italia chi paga in realtà le tasse? Noi, la gente è povera. La borghesia media sta pagando le tasse. Noi paghiamo le tasse. Noi manteniamo tutta sta baracca, capito? Noi. Noi. Noi.